Ben trovati con lo spazio a cura di Meteocalabria.net. Continuerà ancora un po' di instabilità sulle Tirreniche, andrà meglio invece venerdì. Poi nel corso del weekend è atteso l'afflusso di aria gelida dall'est Europa, ma ovviamente ne riparleremo. Uno sguardo rapido alle mappe di previsione per i prossimi due giorni. Giovedì 11, nuvoloso sul versante tirrenico e nelle rispettive aree interne, con la possibilità di piogge sparse, asciutto invece sulle Ioniche. Venti moderati di ponente, con locali rinforzi, martireno agitato, mosso lo Ionio, temperature in calo. Per venerdì 12 febbraio ci attendiamo, nuvolosità diffusa ma con solo la possibilità di qualche temporaneo e locale fenomeno. Venti di direzione variabile, tempo decisamente più freddo. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento al prossimo aggiornamento.